Ciao Gossip News Sono contenta, è un buon periodo e spero che tutto prosegua come è andata fino adesso perché si lamentano tutti in quest'anno di crisi però per me è andata bene, quindi speriamo che continui così Tu non ti lamenti mai? Oddio, qualche volta capita, però lamentarsi tanto non serve a niente più che altro faccio i conti con quello che è successo se è qualcosa che non va, progetto perché accada qualcosa di migliore La cosa che cambieresti nella tua vita in questo momento? La preoccupazione per il futuro, quella la cambierei nel senso che ovviamente stiamo vivendo un momento, per quanto ne dicano un momento di crisi ed è vero e quindi è inutile dire che noi giovani siamo preoccupati per quello che sta accadendo in Italia per le raccomandazioni, per la difficoltà che si ha nel fare il proprio mestiere qualsiasi esso sia e quindi poter essere un po' meno preoccupati sapendo che quando si sa fare qualcosa si può riuscire ad ottenere giusti risultati e quindi poter essere un po' meno preoccupati e quindi poter essere un po' meno preoccupati